Ciao a tutti, qual è il tuo nome? Il mio nome è Mirko e questo è il mio segnonome. Quanti anni hai? Io ho 13 anni. Da dove vieni? Io vengo da Modena. Come mai hai scelto di fare una settimana qui al Champions Cup? Perché un mio amico mi ha detto che era molto bello fare una settimana qui al Champions Cup e in effetti ha perfettamente ragione, è indimenticabile per me questa settimana. Ma l'integrazione tra sordi e udenti, tu cosa ne pensi? Per me è una cosa bellissima, io mi trovo molto bene perché siamo in collaborazione tra di noi, condividiamo tutto. Pensi che ci siano difficoltà di integrazione tra sordi e udenti? No, nessuna difficoltà. Quindi si può fare tutto? Sì, certo. Qual è lo sport preferito tuo? Il mio sport preferito è il judo. E come mai? Perché c'è movimento, c'è tecnica. È il mio sport preferito. Grazie.